salve raga allora sono un po di giorni che non mi vedete no qualcuno magari si preoccupa qualcuno mi dice che sono un ladro che devo restituire i soldi e tutto quanto io ho comunicato questo ragazzi a questi fuori scemi a qualche scemo e demente che scrive minchiate sempre come al solito e niente non mi avete visto sti giorni sti giorni faccio meno video per un motivo perché stiamo sistemando il sito stiamo cercando di ultimare il sito ultima nel sito che per quello che ha fatto youtube perché io pensavo da fare una cosa buona su youtube invece si è rivelata una cosa pessima ma così c'è l'esperienza e l'esperienza questa fa pure parte dell'esperienza ho assorbito pure st'altra 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 schifezza da youtube ho assorbito però va bene guarda io pensavo da fare una cosa carina pensavo di essere molto tutelato invece manco per niente youtube ha fatto proprio il bastardo in tutti i sensi l'ha fatto perché è normale tu me blocchi i pagamenti ne blocchi la monetizzazione ma ha bloccato sia la monetizzazione quella dei spot pubblicitari sia quella d'assenza e sia quella per i pagamenti quelli che vedete scritta ancora per entrare per iscriversi devi pagare cosa che io voglio voglio togliere assolutamente non ci riesco perché mi ha bloccato non mi può far fare quella cosa perciò chi si iscrive e paga i soldi vanno a youtube non vanno a me ma a me youtube non mi ha dato un centesimo uno che uno 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 io sono con youtube sono due mesi che non prendo una lira due mesi che non prendo soldi a youtube perciò io voglio fare una cosa carina una cosa fatta bene non solo e fa guadagnare forse più soldi pure youtube sì è vero stanno guadagnando loro i soldi stanno guadagnando loro i soldi non stanno guadagnare io so il problema ha fottuto mi hanno fottuto perché è normale non è che tu quando fai un canale e magari ci metti assenza quello e quell'altro pagamenti è tutto accorpato perché fa parte di una e mail pure se tu apri un altro canale e altri canali puoi aprire associare se stanno con quelli metri blocca tutto non è che ti dici guarda qui sta fa una cazzata di blocco qua o qui sta fa questo no blocca tutto proprio perché le mere quelle blocca tutto pensate che furbata che hanno avuto si imbecilli pensate che furbata perciò uno dovrebbe pure distinguere magari o magari avvisarti prima di bloccarti un canale ma ancora avviso le mandano prendono e fanno tutto da testa loro perché tutto automatizzato ma normale io pensavo di avere a che fare con qualcuno quando scrivevo delle mail si parlavo con quelli con le mail tutta qua poi quando vai a comunicare con questi imbecilli che stanno lì a lavorare per youtube questi che fanno tipo i call center ma non so call center sono chat center chat che poi rispondono magari quando gli fa comodo a loro o magari tu mandi una mail e poi magari dopo un giorno due o tre te rispondono perché funziona così non ha senso se ho un problema grave non te lo sanno risolvere io ho detto scusate potete disattivare questo fammi questa questa non te lo fanno non te lo possono fare non lo fanno perché stanno lì solo per rispondere alle minchiate sono pagati magari due soldi perché faranno guadagneranno due soldi magari stanno lì a 500 euro al mese sti coglioni per rispondere a quello che dico io o magari per cercare di soddisfare qualche qualche youtuber che magari ha avuto dei problemi soddisfare che perché te rispondono tutte pensi di essere dice cazzo mi hanno preso in considerazione invece manco per caso manco per niente questi proprio in considerazione non te vieno per niente e questa è stata proprio la goccia che ha fatto tra bocca al vaso perché youtube a me me ne ha fatte tante in tanti anni però ci sono sempre passato sopra ho detto ma sto giro no sto giro no non può passare la liscia perché sto giro non funziona così perché i pagamenti ragazzi come ho detto pure in altro video non iscrivetevi più al canale perché se scrivete pagano poi i video sono tutti in chiaro perciò non ha senso iscriversi a un canale a pagamento che tutti li vedono i video non ha senso perciò io quel 2 99 e 2 40 e 24 29 euro e 49 annui e mensili non riesco a levarlo perché me l'ha bloccato perciò lo ha fatto la furbata l'ha fatta youtube perché fotti i soldi a voi no io non ho fottuto nulla a nessuno sono stato onesto fino alla fine vi ho spiegato come fare le cose e tutto quanto purtroppo youtube è un bastardo bastardo dentro perché quando non è bastardo dentro è normale che potrà fare queste cose allora io ho pensato un'altra cosa molto meglio che magari da un male alla fine può nasce bene perché io sono una persona mi ritengo una persona molto intelligente allora ho detto di così come c'è un canale c'è un canale ismagic il sito visto che era associato con assenza l'associato del sito di coparo funzionerà insomma me l'hanno consigliato ma io sinceramente era un po dubitavo però ho fatto ho fatto questo questa cosa e si è rivelata una puttanata perché non sapevo che come funzionava le regole tutte queste cazzate qua non lo so magari per cinque dieci clic in più magari pure una persona può cliccare se una persona entra nel canale e te clicca e te fa che ne so dieci clic su tutti i spot pubblicitari te lo bloccano io non lo lo sapevo ma capito e te voglio dire scusa tu non dovresti bloccarlo dovresti eliminare l'ha fatto i tre dei tre spot pubblicitari gli altri dello stesso sito lo blocchi basta prendi i soldi di quei tre punto no invece che fanno questi bloccano proprio pensate che coglioni pensate che rassa di ingegno ed ingegno stupido che ci hanno questi allora allora a questo punto ho detto sai che c'è ok tutti i video che farò in futuro non li vedrete più sul youtube nel senso su youtube proprio sul canale non si vedranno li vedrete sul sito e per vedere sul sito devi pagare entri nel canale is magic entri nell'area max ti iscrivi pagamento poi ci saranno tutti i metodi di pagamento ci stanno a posto il sito ancora in fase di ultimato ancora non è pronto manca poco però questo dovrebbe essere il procedimento già abbiamo fatto l'area max all'area dove lì ci saranno video le live e tutte le informazioni per le per le vacanze per avere sconti sulle vacanze per avere informazione su investire su trasferimenti su tutte queste cose qua troverete tutte nell'area max io poi voi entrerete nel sito lì avrete tutta la pagina come come il giornale vedrete quello che fa con 3 sa e poi entrerete nell'area max dove dove io parlo e dico e spiegherò con i video con tante cose come poter avere certe informazioni opportunità capito o magari se sarete molti iscrivervi come io quello che sto facendo qui lo è quello che era su youtube perciò youtube non me l'ha permesso lo faccio qua non solo li pagavi 30 euro l'anno o tre euro al mese che erano 36 euro se paghi mese per mese o 30 euro tutto l'anno qui paghi 24 euro sarebbero due euro al mese due euro al mese però non ci sta la prova gratuita non esiste proprio enti e ti iscrivi perché tanti furbini perché poi ecco i soliti furbini che fanno se scrivono al tredicesimo giorno più ne scancellano perciò i soldi non li poi non li puoi recuperare nel senso questo se visto 13 quasi 14 giorni dei miei video e poi normale cancella apre un altro canale di merda è capito se fa lo stesso metodo e continua a vedere i video invece così ti iscrivi devi pagare immediatamente se vuoi vedere i miei video e basta perciò devi pagare punto sto giro devi pagare subito non c'è sta prova gratuita non esiste prova perciò se quelli che hanno intenzione di seguirmi quelli che mi apprezzano come ho sempre detto funziona così i video su youtube non li vedrete più li vedete tutti sul sito ma magari qualche video carino dal canale youtube lo porterò direttamente sul sito e poi piano piano trasmetterò solo spot pubblicitari sul mister legge sono fede trasmetterò spot e magari per avvisarvi in chiaro lo manderò in live insomma in chiaro e per comunicarvi certe cose che magari perché la risonanza perché c'è molta più gente che mi segui là che ora sul sito che dovrà cominciare a entrare nel sito per vedere i video e sapere tutto quello che poi faremo quello che ci sarà belle cose ancora migliori le cose saranno molto meglio poi c'è sempre qualcuno che magari mi fa le pubblicità conto addirittura c'è stato un coglione che che continua ad anzi sono uno due o sarà sempre lo stesso e spedia scriva gli altri non andare da max in vacanza c'è spedia spendi 600 euro spendi questo spendi quello ma pensa che coglione la gente c'è un cazzo da fare tutto il giorno questo vive tutto il giorno su attaccato al computer cercando di di come si dice di di sminuirmi di magari capito venire a scrivere agli altri o magari sul coso tanto per se sito un altro si chiama questo fosco un certo fosco tanto io c'ho tanti altri canali tt continuano a romperti il cazzo poi c'è stato un altro puro quale è sempre lo stesso continuerò anche se tu mi elimini continuano a capito continuano a scrivere minchiate su di te capito come tutta questa gente ecco ecco perché magari io levo pure per le mamme si deficienti il canale a pagamento serve a questo perché questa questa persona per iscriversi devi pagare nome cognome telefono tutto ci deve stare tutto come 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 su youtube e non c'è l'iscrizione non è 16 14 giorni e poi la levi no qui devi pagare subito e se fai il coglione del blocco uguale non puoi vedere più dal sito del blocco e te ne vai affanculo ripaga 24 euro capito come ecco come funziona perciò non c'è prova gratuita e nemmeno mese per mese che dice dai da 3 euro poi io non per cazzo oppure se mi caccia via con 3 euro sti cazzi no e per quelli che magari avranno pagato e magari quelli che magari ci sono rimasti male che magari dice max cazzo ho pagato però un mese quel mese che hanno pagato niente da 24 pagherete 21 euro pagherete però è normale siccome io ho posto il numero di telefono col whatsapp perché sei tantissimo che avete scritto su whatsapp e tramite whatsapp mi mandate una fotografia del pagamento che è stato fatto che avete fatto il pagamento quelli saranno scontati mi manderà tutto quanto nome e cognome io prendo e quando tu mi manderai l'email io ti inserirò e il pagamento sarà di 21 euro invece che di 24 per tutto l'anno questo è quello che posso che vi faccio così almeno non avete adesso ho perso 3 euro ho buttato e no perciò farete una cosa del genere e spiegherò tutto quanto poi prossimamente più che altro per me anche questi testa di cazzo che continuano rompi i coglioni ecco perché io faccio il canale a pagamento ma non perché uno vuole fare i soldi dicendo ah ma tu sei un ladro e solite minchiate ti piace il mio canale lo paghi non ti piace non mi vede non c'è problema non sei obbligato non sei obbligato capito lo dica a te coglione coglione di merda lo dica a te non sei obbligato a iscriverti al mio canale tu vuoi continuare a seguire il mio canale per rompere il cazzo allora devi pagare però come rompi il cazzo ti elimino e ha buttato 24 euro capito come così funziona tu poi puoi fare anche dopo uno due giorni vedo perché poi sarete tutti non male vi tengo tutti quanti monitorati sarete tutti monitorati perciò a sto punto sopra pure chi è il coglione di turno che si è scritto pure e ha fatto capito che fa lo stronzo perciò questo devo cercare di arrivare a un punto che vi devo cacciare via e non mi dovete rompere più i coglioni perché avete rotto il cazzo gente di merda siete gente di merda ok la gente del merda io la scarico col cazzo il cazzo come i strozzi scarico via ok questa è la comunicazione fra penso qualche giorno dovrei fare il prossimo video perché dovrebbe essere tutto per comunicarvi tutto quanto i pagamenti poi lo troverete come come era su youtube più o meno sarà lo stesso entrate pagamento papa è fatto penso che dovrebbe essere dovrebbe essere problemi carta conto tutto quello che è paypal quello che siano dovrebbe esserci problemi sul fatto perciò per vedere le dirette live le dirette live che saranno ragazzi ecco poi arriva quando arrivi da settembre a questo forse che 24 ore adesso ma se poi arrivate a metà agosto e le dirette live cominceranno pagamento sarà più alto è proprio apposta questo è solamente sarà una cosa dice un un bonifico un beneficio per quelli che si scrivono prima per chi arriverà dopo magari sarà pure più un po più caro è normale devi dare dirette live cazzo costa vedere le dirette live perché non solo io devo pagare per farvi vedere questa diretta live in un modo o nell'altro devo pagare perciò avete pure chi si iscrive prima avrà questi benefici ok ragazzi questo è quanto e poi ci sono tante tante cose interessanti perciò entrate su canalis magic area max a chiesa in fase di allestimento ancora però più o meno è quasi definito manca poco manca poco perciò ragazzi quando quando volete poi magari me lo comunicherete vi lascio qui sotto il numero di telefono del whatsapp così chi vuole continuare a perché adesso il whatsapp pure l'ho tenuto spento nel senso ma no perché non vi ho risposto perché c'è stato sto problema è inutile che vi sta rispondendo ai 75 600 1000 e vi metto lì a rispondere a tutti quanti che diventa al momento opportuno vi manderò tutte le informazioni per come rifare tutto quanto come vi ho detto adesso ok ragazzi si vediamo alla prossima e niente oggi vuole un armare ma il tempo è nuvoloso ciao ragazzi ciao ragazzi